A Barlassina, il polo scolastico di Via Colombo, Via Vecellio e la biblioteca di Largo Diaz diventeranno a emissioni quasi zero. Sono partiti in questi giorni i lavori del progetto di efficientamento energetico per sei edifici del comune Brianzolo per ridurre i consumi di energia primaria fino all'80%. Oltre 6 milioni di euro di investimento, 15 mesi di cantieri per il progetto realizzato tra Comune e la società Gelsia. Da nuovi impianti fotovoltaici all'installazione di lampade a LED, dall'introduzione di generatori di calore del tipo pompa di calore a basso impatto energetico alla sostituzione di serramenti fino alla rimozione dell'amianto e rifacimento delle coperture. Ma il progetto prevede anche strumenti smart come un sistema di telecontrollo per monitorare il consumo di energia in tempo reale. L'obiettivo è creare un fiore all'occhiello per il territorio Brianzolo in termini di efficientamento energetico in strutture comunali. Soddisfatto il sindaco Pier Mario Galli, è un progetto di cui siamo orgogliosi, un lavoro durato anni, accanto al valore economico il progetto è importante anche in termini ambientali e di riduzione dei consumi energetici. L'amministrazione comunale ha sempre creduto nel tema del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale e questo progetto è un grande passo in questa direzione.